ci siamo appena cambiate il pannolino e dobbiamo fare la nostra beauty routine vero Matti tu sei molto interessato e praticamente volevamo solo farvi vedere che noi usiamo sempre le traversine usa e getta ultimamente perché dobbiamo stimolarla anche a fare bisognini non la pipì è la cacca perché è un pochino diciamo problematica e quindi mettiamo sempre la traversina e noi usiamo sempre quelle di happy per usarle sul fasciatoio si possono usare anche come salva pipì nel materasso oppure se dovete mettere il bimbo in terra d'estate o anche inverno nel senso per isolarlo un pochino dalla temperatura queste le compro sempre da super bebé che è il nostro negozio di fiducia e sono carinissime che vedete che hanno questi disegni carinissimi che poi vengono anche riportati sui pannolini inoltre a breve inizieremo a usare la misura successiva la numero 3 di pannolini vi faccio vedere una cosa visto che la scatola stavolta ce l'ho perché altre volte la lascio direttamente dal negozio questa scatola qui vi consigliano di riutilizzarla per mettere i giochi dei vostri bambini perché vedete quante carine vi faccio vedere la scatola stavolta